La decisione è di dare un chiedone di una reintegrale non capace collegare C'è nessun problema, non penso niente a trovare Sbagliata, non funziona, non ti do da ripare Non ho rispetto nel cosa, devo spiegare C'è nessun problema, sono tutti quanti confetti o quale Non ti rispondo, non ti faccio chiamare Solo dobbiamo fermaggiare, non ti faccio chiamare Solo dobbiamo fermaggiare, non ti faccio chiamare Non ti faccio chiamare, 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 non ti faccio chiamare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti